Boato a Verona per l'esplosione in una palazzina, l'episodio si sarebbe verificato in via San Giovanni in valle, nel quartiere Veronetta sul posto i vigili del fuoco con una quindicina di squadre, polizia, carabinieri, personale del 118, con due ambulanze, un'automedica. Sono sei feriti, di cui quattro lievi, causati dall'esplosione di questa macchina in un alloggio Agec in via San Giovanni in valle 9, due sono stati trasportati in ospedale a Borgo Trento, uno di loro è in gravi condizioni, c'è una persona ustionata grave che è stata portata in Borgo Trento in codice rosso, una persona intossicata perché era a letto con una gamba fratturata e altri quattro trattati sul posto e non portati in ospedale, l'esplosione, stando alle testimonianze di altri residenti, sarebbe stata provocata volontariamente da un inquilino che aveva ricevuto un ultimatum disfratto. Grazie.